Non ci posso credere, Paola Baldini, la balena della prima B. Ragazzi, era pazza di vostro padre, però lui aveva già scelto me. È molto cambiata, eh? Ma soprattutto è piena di soldi. Se io riesco a chiudere questo contratto... Un po' di scaramanzia, eh? Ma voi? Non dite niente? Oggi è stata una giornata importante, no? Insomma, a me la terza mi sembra ora la seconda. Ma invece per me è tutto diverso, anche troppo. Perché mi avete mandato in quella scuola? Non conosco nessuno. Ma come, c'è Patti, la figlia di Luisa? Siete amici dell'asilo, no? Sì, ma lei è come gli altri. Mamma, quello non è un posto per me. Marti, amore, lo so che è questo momento particolare, ma noi abbiamo scelto quella scuola perché ti meriti il meglio. E abbiamo anche fatto dei sacrifici per iscriverti, sai? Sì, io non ve l'avevo chiesto. Beh, Carlo, di qualcosa. Amore, l'inizio è sempre un po' difficile, poi però vedrai... che le cose andranno meglio, ti farai un sacco di amici. C'è la nonna nella tv! Già, mi ero dimenticato. Per completare la famiglia mancava nonna Fiore, la madre di mia madre. Fa l'attrice, vive in America e mamma è sempre molto arrabbiata con lei perché dice che pensa solo a se stessa.